Allora questa è un'area che presto subirà una profonda trasformazione, avete acquisito il bene, quali saranno i prossimi futuri interventi? Abbiamo acquisito il bene dal comune che ha ritenuto di cedere questo spazio del porto che comunque era destinato solo per le attività produttive della pesca con due bandi di gara al quale uno abbiamo partecipato lui e al secondo ha partecipato un'altra società che sta nel contesto portuale delle attività della pesca. Noi l'abbiamo acquisito in copartecipazione tra l'associazione Volacoperativa, l'associazione Volai Fanno e la Copromo SRL che è una società collegata al nostro gruppo che fa attività di commercializzazione e esportazione in Spagna. Vorremmo ripristinare quest'area che è fattiscente, che è all'entrata del porto, quindi è anche un'immagine per la città perché così, in queste condizioni, darebbe, ripeto, una pessima immagine di quello che è il nostro porto. Anche in un'ottica di ristrutturazione partiranno i lavori sia della cantieristica che anche della pesca e i cantieri nostri verranno aperti a febbraio e quindi nel contempo vorremmo anche ristrutturare questa parte che sarà un tutt'uno con i nuovi investimenti. Cosa si farà in questo capannone, in questo locale? Qui verranno fatte attività di servizio ai capannoni che verranno costruiti a fianco, cioè quelli nuovi. L'impianto economico è anche importante perché ha notevoli strutture da rimettere a fuori. Sì, solo la bonifica per tutto il contesto, anche non solo per la parte nostra, prevederà circa 150 mila euro solo di bonifica dell'amianto. Quindi immaginate, poi vedete dalle immagini com'è ridotto, quindi dovremmo di fatto rovesciarlo tutto come un calzino e in alcune parti almeno ricostruirlo.